Il 4 novembre si parla qui all'Università Principessa, qual è il fine di vita? Sì, un appuntamento importante perché avremo degli ospiti di rilevanza nazionale, avremo il Cardinale Menichelli e anche il nostro Presidente Nazionale dei Medici Cattolici, il Professor Bosch. In particolare lui si soffermerà proprio sull'importanza dell'assistenza al paziente terminale, all'anziano terminale con quello che dovrebbe essere l'aspetto fondamentale di accompagnare questo paziente verso la fine del suo cammino vita presso il proprio domicilio, in modo tale da rendere il meno medicalizzato possibile, il più naturale possibile questo aspetto fondamentale della nostra esistenza. Quindi un invito a partecipare proprio a questo importante evento che vede protagonisti l'Associazione Diocesana dei Medici Cattolici in collaborazione con Scienza e Vita. Sì, sarà un convegno che tratterà la tematica del fine vita, molto discussa in questo periodo in Parlamento. C'è proprio una proposta di legge che forse non si sa se riuscirà a essere terminata prima della fine della legislatura e i casi sono tanti, dal DJ Fabbo, dal piccolo ragazzo, il ragazzo inglese che voleva essere curato ai genitori e non è stato possibile, quindi è una tematica molto importante, una tematica che richiede non soltanto aspetti giuridici e medici ma anche aspetti etici. Per questo a noi, oltre al Presidente nazionale di Scienza e Vita, che è il professore Gambino, esperto in diritto privato, prolettore dell'Università Europea di Roma, ci saranno anche degli esperti medici, rispettabilissimi, che sono i medici Vicepresidente e Presidente dei Medici Cattolici e nonché poi il Cardinale Menichelli sull'etica, perché questa non è solo una questione giuridica, medica, ma anche una questione etica. Per l'alto valore sociale, ma anche giuridico ed etico, il convegno è stato accreditato dall'Ordine degli Avvocati di Palmi come momento formativo con la concessione dei crediti e patrocinato dalla Diocesi di Oppido Palmi. Ci sarà poi quel giorno anche il saluto del nostro Vesco, Monsignor Melito.